ciao a tutti e bentornati sul canale labs on game oggi vi voglio mostrare l'unboxing e quindi apriremo insieme il gioco di marvel united x-men come vedete alle mie spalle c'è il precedente gioco marvel united con le varie espansioni questo gioco lo adoro assolutamente giocato prevalentemente in solitario e vi assicuro che è veramente molto divertente semplice le sue regole ma non banale prima di iniziare a vedere insieme l'apertura di questo gioco vi ricordo di supportare il canale iscrivendovi se avete piacere di vedere i nostri contenuti di gameplay video tutorial e unboxing di accendere la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno e di seguirci anche sui canali social facebook instagram e sul sito web quindi ora andiamo insieme ad aprire marvel united x-men grazie a tutti 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 ciao a tutti